Sequestrato un appartamento è sospesa l'attività guai per il titolare di un'azienda agricola di Carturo a Piazzola sul Brenta. Il geometra imprenditore agricolo di San Giorgio in Bosco avrebbe richiesto e ottenuto un contributo dall'Agenzia regionale Veneta per il pagamento in agricoltura per realizzare un agriturismo emettendo fatture false per circa 185 mila euro. L'uomo avrebbe anche utilizzato i fondi ricevuti per la ristrutturazione dell'immobile che solo formalmente era destinato all'esercizio di un'attività agrituristica. Mancavano infatti le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di un'impresa commerciale. A seguito di complesse indagini svolte dalle fiamme gialle di Cittadella sono scattati i sigilli.